Buongiorno a tutti, benvenuti e ringrazio la stampa locale per essere alla presentazione ufficiale delle attività del nostro settore giovanile in presenza del direttore generale del settore giovanile Pietro Lodi, che salutiamo, grazie mille direttore, Fabio Piantoni, ormai storico responsabile delle attività di base, e a New Entry, a cui diamo un nuovo caloroso benvenuto, Felice Tufano, che sarà il coordinatore dell'era tecnica del nostro settore giovanile. Direttore, cominciamo allora. Oggi siamo qui per fare una panoramica sulle attività che sono già riprese, dalla primavera al team di CPS Senza di me che gioco è. Prego. Buongiorno a tutti, siamo partiti con tutte le attività, quindi tutti i ragazzi hanno iniziato l'attività, siamo in attesa del calendario degli ultimi ragazzi, dell'attività di base, per il resto siamo partiti con tutti. Quest'anno è un banco di prova per noi molto importante, un campionato Serie A, Serie B, per quanto riguarda l'agonistica, ovviamente è l'espressione, la massima espressione direi del calcio giovanile professionistico a livello nazionale, e quindi direi fortemente stimolante per noi, sicuramente fortemente stimolante anche per i nostri ragazzi, deve essere motivo di orgoglio, giocare in una società che dà la possibilità di giocare in un campionato del genere, ad altissimi livelli, quindi deve essere lo stimolo, deve essere poi promotore di tutta una serie di principi che noi da anni portiamo avanti alla Ferralpi Salò, quindi una formazione non solo ed esclusivamente tecnica, ma soprattutto una educazione, una formazione di tipo valoriale, quindi è fondamentale che i ragazzi apprendano ovviamente le nozioni del gioco del calcio, perché qua si fa calcio, non dimentichiamolo, però sappiamo che per costruire un giocatore non è sufficiente formarlo da un punto di vista tecnico, ma necessita ovviamente di una formazione a 360 gradi, e quella, ripeto, educativa e valoriale, è sicuramente uno degli aspetti fondamentali che cerchiamo di portare avanti da tanti anni, ma sto perché non è che abbiamo scoperto l'acqua calda, ma semplicemente perché sappiamo che per poter arrivare ad altissimi livelli o anche diventare calciatore professionista, spesso, anzi oggi più che mai, si guardano anche altri aspetti, quindi lo spirito di sacrificio, l'aggregazione, la solidarietà, quindi la metodologia del lavoro, la cultura di lavoro che hanno questi ragazzi, quindi un occhio particolare sicuramente sulla metodologia e la cultura del lavoro. Abbiamo introdotto quest'anno con la Primavera un nuovo allenatore, Damiano Zenoni, sulla 17 viene riconfermato Mauro Coltrini, sull'Under 16 abbiamo inserito Stefano Belussi che era già nostro allenatore, l'anno scorso era vice allenatore in Primavera, quest'anno ha la panchina dell'Under 16, il nostro 2008 e Alessandro Rossi confermato sull'Under 15, poi magari Fabio spiegherà meglio quello che sono i tecnici sulla attività di base. Abbiamo iniziato anche con i ragazzi, senza di me che gioco è, quindi adesso ai primi di ottobre ci saranno i test match sempre al centro sportivo Buttagigia di Verona, che è un po' diventata la nostra seconda casa per loro, sono molto orgogliosi, fremono perché penso che ve lo sappiate, sono campioni regionali in carica, quindi loro non se lo dimenticano e quindi hanno questo orgoglio, questo prestigio da portare avanti e vogliono riniziare la loro attività, gli allenamenti sono già iniziati, come dicevo nel mese di ottobre ci saranno i test match, a fine ottobre presumibilmente partirà di nuovo il campionato, quindi c'è grande entusiasmo anche attorno a loro. Matteo ha introdotto la nuova figura di Felice Tufano, una persona poi si presenterà da solo, però motivo di orgoglio per noi averlo qui, per la grandissima esperienza che ha e ha avuto in questi anni come allenatore, sicuramente è una persona capace, una persona competente e quindi per me è sicuramente un punto di riferimento per quanto riguarda l'aspetto tecnico, ma lo sarà per tutta la società e soprattutto sarà un punto di riferimento per gli allenatori perché in primis, vista l'esperienza ripeto che ha maturato in tutti questi anni, sarà sicuramente un motivo di confronto e un confronto anche prezioso da parte loro. Fabio Piantoni, ovviamente da noi da ormai tanti anni, credo 8 anni Fabio? 6 anni, vabbè ti ho dato 2 anni in più, 6 anni, la sua metodologia di lavoro è fortemente condivisa da me ma da anche chi mi ha preceduto, i frutti si stanno vedendo anche in questi anni perché le prime annate se non dico male Fabio sono stati 2007-2008 quindi sono in questo momento annate che sicuramente ci stanno dando grande soddisfazione quindi segnale che il lavoro che è stato fatto in questi anni sull'attività di base è un lavoro ottimale. Altra new entry è Nicora Vera, Nicora Vera oltre ad occuparsi della segreteria del settore giovanile è anche responsabile, coordinatore della scuola calcio, primi calci qua a Salò, ci tenevamo particolarmente a portare avanti questo progetto ovviamente per la popolazione, cercare di dare un supporto e dare questo aspetto sociale un po' creativo, ricreativo diciamo alla popolazione di Salò, quindi so che ci sono già diversi bambini, è stato fatto nelle settimane scorse anche degli open day, abbiamo già credo una trentina di bambini già iscritti, ne aspetteremo degli altri ma vedo che i numeri non mancano mai qua a Salò. Devo citare poi la collaborazione che è nata quest'anno con la 3Team, società di puro settore giovanile e femminile, la nuova affiliazione fino all'anno scorso eravamo affiliati a una società di Milano che era il Minerva Calcio Femminile, da quest'anno nasce questa partnership con 3Team Calcio Femminile, quindi seguiranno tutto quello che è previsto dalle licenze nazionali, stanno quindi correranno all'aspetto del settore giovanile che è indispensabile e però non ci si limiterà ovviamente a semplicemente una collaborazione per assolvere diciamo agli oneri che ci impongono le licenze nazionali ma nascerà proprio una collaborazione che magari domani potrà portare a un qualcosa di un po' più complesso. Io lascio la parola. Grazie direttore, grazie mille. Felice Tufano, da Bresciano Doc inizia una nuova avventura molto stimolante. Sì, stimolante, parecchio direi stimolante anche perché per me è una novità visto considerato che dal 95 che ho allenato, alleno ininterrottamente fino alla stagione che si è appena conclusa, quindi per me è una novità, per me è una sfida, una nuova sfida, un nuovo modo di fare calcio, una cosa completamente diversa rispetto a quella che facevo anche se comunque si tratta sempre di gestione tecnica e quant'altro però chiaramente non è più la gestione di una squadra ma è la gestione di una mini squadra che è quella di tutti gli allenatori che ha elencato Pietro. Tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare proprio partendo da Pietro a Fabio a tutti quelli che ruotano intorno al sistema settore giovanile della Ferralpi Salò, compresi gli allenatori, per come mi hanno inserito. Non ho fatto fatica ad inserirmi in nessun modo e questo è grazie al loro altruismo, alla loro possibilità di avere una figura come la mia che potesse in qualche modo portare dei benefici a livello tecnico ed è quello che è poi il mio compito. Pietro ha accennato benissimo, ha fatto riferimento benissimo alla difficoltà che ci aspetta nei campionati nazionali, si alza l'asticella, cambiano gli avversari in tanti campionati e quindi bisogna giocoforza tutti quanti alzare il livello per poter competere con realtà importanti. Devo dire sotto questo aspetto di aver trovato sicuramente un lavoro già fatto in maniera molto esaustiva e molto lavorata bene nei particolari. chiaramente non è sufficiente per arrivare a fare quello che è poi l'obiettivo nostro, ma un po' di tutto il movimento settore giovanile nel calcio italiano che è quello di crescere i ragazzi, di portarli a un livello tale da potersi giocare poi da grandi un'opportunità per fare in modo e in maniera che questo sport possa diventare anche un lavoro. Quindi questo è un po' quello che è il mio pensiero. È chiaro che dovrò confrontarmi come ci confrontiamo quotidianamente sia con Pietro che con gli allenatori nello stabilire determinate linee guida, ma da come ho approcciato e da come mi hanno dimostrato finora i ragazzi non c'è nessun tipo di problema. Poi io sono una persona, ma lo sono sempre stato, molto aperto al confronto, quindi credo che il confronto, la condivisione e la collaborazione siano gli ingredienti fondamentali per raggiungere un obiettivo importante che poi, ripeto, è quello che ho detto prima, ma non è solo quello, ma c'è un miglioramento quotidiano da perseguire durante gli allenamenti. La partita poi, la partita al campionato, i risultati devono comunque essere la finalizzazione di un lavoro fatto che ci deve portare assolutamente ad alzare il livello. Questo è un po' il mio pensiero. Grazie sicuramente al Presidente e a Ferretti, che sono state le due persone che mi hanno contattato e mi hanno dato questa opportunità che, ripeto, mi piacciono particolarmente le sfide, le novità, sono sempre aperto a qualsiasi tipo di situazione, quindi l'ho colta al volo e sono passati due mesi e devo dire che se il buongiorno si vede dal mattino sono molto contento di aver fatto questa scelta. Grazie, grazie Felice Tufano, allora tantissimi in bocca al lupo per buon lavoro, ovviamente, per questa nuova avventura. Fabio, Piantoni, se potessimo riassumere in un pay-off quella che è l'attività di base, potremmo dire dove affondano le radici, perché si parte da lì? Assolutamente sì, è uno step fondamentale, indispensabile, che mette la casa in sicurezza, come si dice, perché le fondamenta sono quelle che poi permettono di costruire qualcosa di importante e se posso utilizzare un termine che riassume, come mi hai chiesto, l'attività svolta ad oggi, visto che ho iniziato il sesto anno in Ferralpisalò, direi nel segno della continuità, continuità che ci ha permesso poi di raggiungere, grazie anche al lavoro della prima squadra, chiaramente con la categoria di Serie B, un campionato nazionale o dei campionati nazionali con le squadre dell'attività agonistica, che oggi io dico essere abbastanza competitive, quindi questo nel segno della continuità ci permette chiaramente di dare un segnale forte anche a livello di territorio, perché non dimentichiamo che i nostri ragazzi, proprio per regolamento dell'attività di base, vengono tutti dal territorio della provincia di Brescia e per me questo è motivo d'orgoglio, riuscire poi a trovare quelli che potenzialmente potranno essere i giocatori di domani. L'attività che si svolge presso la Badia, il centro sportivo della Badia, da sei anni a questa parte, vede il coinvolgimento dall'Under 14 all'Under 9, quindi sono sei formazioni che si allenano praticamente quotidianamente e partendo dall'Under 14 che è guidata da Mr. Ferrari, nel segno anche questo della continuità, perché è con noi già da due anni, Under 13 guidata da Zanotti Marco, per quanto riguarda l'Under 12 New Entry di Andrea Scotti, Under 11 Marco Pasotti, Under 10 Alessandro More e per chiudere Under 9 Simone Turelli. Tutti allenatori che da più anni sono con noi a parte, come dicevo, l'ingresso dell'Under 12 e che quindi sposano e condividono il progetto tecnico che in questi anni stiamo portando avanti. Quindi quando parliamo di metodo, si parlava prima sia felice che Pietro, in ambito di contesto non basta il campo, non è più solo l'aspetto tecnico, ma è l'aspetto ambientale, le figure che ci ruotano intorno, il come ci si approccia all'attività, la cultura del lavoro, l'entusiasmo con il quale questi bimbi devono arrivare al campo e l'entusiasmo con il quale poi devono anche andarsene a casa, avendo vissuto un'esperienza importante, gioiosa e che lasci qualcosa. Perché poi siamo chiamati, questa è forse la nota dolente di un settore giovanile, anno con anno a fare delle scelte, a fare delle valutazioni, ma penso che l'obiettivo nostro è quello di lasciare in ogni piccolo, in ogni ragazzino, qualcosa di importante, di un'esperienza vissuta in maniera positiva, in maniera propositiva. Questo è un punto fondamentale che ci spinge a lavorare, a metterci costantemente in discussione per rispondere poi alle esigenze e ai bisogni di questi bimbi, che chiaramente dall'Under 9, che sono per intenderci 2015, che hanno 8 anni, per arrivare all'Under 14, che chiaramente sono già, non dico giocatori, ma semi formati, questo sì. Grazie infinite. Direttore, mentre dall'Under 15 è la primavera 2, allenamento del Centro Sportivo Riga Monti, compresi i senza di me che gioco a team DCPS. Ringraziamo ovviamente il Centro Sportivo Riga Monti perché continua la collaborazione. Continua la collaborazione che è stata rinnovata per altri tre anni, quindi fino al 2028 saremo ospiti del Centro Sportivo. Lo ringrazio anche per la disponibilità che dà ai ragazzi di senza di me che gioco è. Grazie mille. Spazio alle domande della stampa. Sergio Zanca, prego. Un chiarimento. Allora, a Riga Monti, quante squadre si allenano? E alla Badia, quante squadre? Quattro squadre alla Riga Monti, cinque con i senza di me, quindi sono in primavera, Under 17, Under 16, Under 15, al Centro Sportivo Mario Riga Monti, con i ragazzi del terzo livello, senza di me che gioco è, e dalla 14 all'Under 9, alla Badia. Sei squadre alla Badia. A Salò non c'è nessunissimo... La scuola a calcio. La scuola a calcio. La scuola a calcio e primi calci sono... Che comincerà, mi sembra di capire. È già iniziata, già iniziata. Allora, Tufano, mi ricordo la partita del suo debutto Verona, dopo che era stata rinviata sotto l'acquazzone, ultima giornata, già retrocessi, Marino Perani, tra i suoi compagni Quaggiotto, Ivano Bonetti, Volpati Dentista, Podavini, Salvioni. Lei è cresciuto con Mauro Bicicli, e quindi nella primavera del Brescia. Penso che da Mauro abbia preso un po' i principi fondamentali. L'umanità, l'amicizia... Beh, stiamo parlando di una persona, mi viene anche un po' di emozione, perché è stato colui il quale mi ha veramente... Secondo papà. ...forgiato e insegnato tantissime cose. E all'epoca, stiamo parlando, mi sembra, del 79 in poi. Il debutto è dell'82? Sì, il debutto, sì, ma quando io sono entrato a far parte della Rosa Primavera, credo fosse il 79, 79-80, lui era già un allenatore attualissimo. Io ricordo, nonostante non avessi minimamente in mente quello che avrei fatto da grande, ho ancora tanti ricordi di come allenava, di come gestiva, con una carica umana non indifferente, veramente un secondo papà. Ma devo dire che nel Brescia io sono stato fortunato perché ho trovato dei maestri molto molto importanti, a partire dal vecchio Messorra a Faustino Turra, che anche lui mi piace sempre ricordarlo perché è stata una persona speciale. Per lo stile. Per lo stile, per l'umanità, per gli insegnamenti più che calcistici di vita che ti dava, perché quelli calcistici erano normali, no? Facevamo allenamento da calcio, quindi... Però umanamente sono stato fortunato in questo senso, ho sempre incontrato nel mio percorso da ragazzo persone che mi hanno insegnato tanto. Poi mi ha stupito il fatto che lei non è mai più rimasto nella nostra provincia. Ha giocato Forlì, Savona, Propatria, Sanremese, Campobasso, Venezia, Brindisi, Cuneo, Vado. Poi dopo ho allenato a Savona, portando il Savona tra i professionisti dopo 16 anni. Come mai sempre lontano dalla nostra provincia? Mai nessuna occasione qui in zona? No, è stato il sogno che ho cullato per gran parte del mio percorso da calciatore, quello di poter tornare, perché comunque sono sempre rimasto affezionato alla mia città. Quindi, però non c'è mai stato nell'opportunità, nella situazione adatta che mi ha permesso di poter fare il ritorno. Mi sono goduto i ricordi che sono stati quelli del settore giovanile. Vabbè, l'esordio in Serie B è stato molto particolare. Mi ricordo ancora ora che c'era lo stadio pieno perché il Verona festeggiava la promozione in Serie B. E noi la retrocessione. Noi la retrocessione, purtroppo. Di che quartiere hai lei? Io sono della Volta. Quella retrocessione ci costò poi una retrocessione ulteriore la stagione successiva. Mi cedevo anche il suo prodotto, prodotto tra virgolette migliore, nella Sampdoria Mauro Icardi. Ma ha allenato anche la Vandanara? Non c'era l'epoca la Vandanara, sennò probabilmente ci sarebbe toccato. È toccato forse agli allenatori che ha avuto nel suo percorso. Sì, Mauro Icardi è quello che rispecchia un po' perché è quello che forse è diventato molto famoso. Però mi piace ricordare tanti altri ragazzi ai quali ho potuto dare un contributo concreto per la loro carriera. Poi ci sono stati quelli di passaggio, ci sono stati quelli invece dove ho contribuito anche alla crescita, oltre che alla crescita umana, oltre che alla carriera calcistica. Perché poi ci sono ragazzi come Raspadori, come Beppe Aurelio, come Motta Carvaio, Frattesi, ce ne sono tantissimi. O Bang, Iepes, insomma ci sono tantissimi, stiamo qua tutto il giorno. Riuscirei a fare un quadrangolare con le riserve se li mettiamo tutti assieme, quindi non voglio far torto a nessuno. L'unica cosa è la grande contentezza di aver contribuito alla crescita di questi ragazzi, che poi il nostro lavoro, sono le nostre soddisfazioni. Chi fa settore giovanile raccoglie soddisfazioni in questo senso qua. Altre soddisfazioni particolari non ce ne sono, però veramente ti gratificano queste cose. Perché vedere un ragazzo partire da piccolo e realizzarsi da grande a livello calcistico è veramente un'emozione impagabile. A Felice Tufano vorrei chiedere quanto è mancata la panchina di una prima squadra in questa carriera. No, in realtà non è mancata più di tanto perché è sempre stata una scelta mia. Non è stata mai una scelta forzata. Io tutti gli anni nel mio percorso ho avuto la possibilità e l'opportunità di allenare anche una panchina di una prima squadra. Però non ho mai trovato la situazione adatta a quello che pensavo io. Non ho mai cercato un'avventura. Ho sempre comunque cercato una cosa che mi potesse permettere di realizzarmi. Che potesse permettere a Felice Tufano allenatore di poter esprimere quelle che sono le sue qualità. Questa scintilla non è mai scattata con le società con le quali ho avuto la possibilità di colloquiare. E alla fine non è successo. Poi l'esperienza l'ho fatta nel mio inizio di carriera. Ho fatto sette anni, sette stagioni con gli adulti tra Serie D e Serie C. Quindi avevo potuto sperimentare e comunque mettere in pratica quello che volevo essere. È una mia scelta, quindi non mi è mancata più di tanto. Anche quel passaggio con la Sampdoria che a un certo punto si è pensato che potesse arrivare quella promozione dopo anche gli anni belli della primavera. Beh, sicuramente nel periodo, per intenderci, quando ho avuto il privilegio di andare in panchina con la prima squadra allo Juventus Stadium in Coppa Italia, no. Pensavo e sapevo esattamente quello che sarebbe stato il mio compito momentaneo e quello che sarebbe stato l'indomani. Quindi ne ero consapevole. La volta successiva, quando poi la Sampdoria prese Stankovic, sì, perché c'era stato qualcosa che mi aveva fatto pensare che mi potesse essere data questa opportunità grazie al lavoro svolto nella primavera e negli anni precedenti. Quindi sono due situazioni diverse che io comunque avevo già avvallato. Avevo già dato il mio consenso, quindi poi dopo entrare nelle dinamiche di quello che è successo in quel periodo lì sinceramente non saprei. A Pietro Lodi vorrei chiedere come si passa dall'avere un Alex Pinardi che qui ha comunque lasciato ottimi ricordi umani e sportivi. A un Felice Tufano che si presenta con questa brescianità che lui dice di avere ancora addosso malgrado i 30 anni, più o meno, anche di più, fatti lontano. Questa mia appartenenza mi dà quello che è il mio carattere, mi dà quella che è la mia caparbietà, quella che è la mia voglia di non accontentarsi mai, quella che è la mia voglia, la mia determinazione nel lavoro. E quindi ci tengo in modo particolare questa cosa qua perché sono io. Come si passa da Alex Pinardi che aveva meno parole a un Felice Tufano che ha anche questo entusiasmo che sta trasmettendo anche a noi? Alex ovviamente ha fatto un ottimo lavoro in questi anni, sa benissimo la stima che ho nei suoi confronti, ovviamente ha avuto questa possibilità, ha preso questa scelta e sono felice per lui. Io credo che mi rilaccio anche per rispondere alla tua domanda, quello che si diceva prima, il settore giovanile è una scelta, non è un ripiego. Uno sceglie il settore giovanile perché è tagliato, per essere un istruttore, un direttore, un dirigente del settore giovanile, perché si ha a che fare con, come diceva Fabio, dai 9 ai 19 anni. Quindi passatemi il termine, il materiale è particolarmente sensibile e ci vuole una grande predisposizione per essere allenatore di un settore giovanile o seguire ragazzi del settore giovanile. Quindi se Felice è qua è perché sappiamo che è uomo dal settore giovanile, non ci sono ambizioni, quindi non è una promozione andare in prima squadra, né tantomeno un ripiego fare settore giovanile piuttosto che fare prima squadra. Io in maniera molto provocatoria dico sempre che chi non è competente vada pure a fare una prima squadra, che lì i danni non li fai, ma se sei incompetente sui settori giovanili i danni si vedono e probabilmente li portano avanti questi ragazzi negli anni e nella loro crescita. Quindi ci vuole grande sensibilità, grande preparazione, grande competenza, ma soprattutto la pallora d'ordine che da questi anni c'è sempre stata in Feral Pissarò è la coerenza. Tu devi essere coerente con quello che dici ai ragazzi, quello che spieghi alle famiglie, devono avere riscontro poi durante la stagione. Se non sei coerente non sei credibile e per contrario se sei coerente riesci ad acquisire quella credibilità che in questo momento credo che sia una delle forze maggiori della Feral Pissarò. Società credibile, professionale e competente, sempre all'insegna dei piccoli passi. Quindi Felice è un passo in più, un passo in avanti. Ripeto, il suo entusiasmo e la sua competenza la sto tastando con mano tutti i giorni perché siamo a stretto contatto quotidianamente al campo e quindi vedo la grande passione, la grande voglia che ha e soprattutto, ripeto, la competenza. Volevo chiedere a Felice Tufano di raccontarci un po' l'impatto con la Feral Pissarò. Cioè il fatto che lei Bresciano la conosceva già da fuori, come è stato conoscerla da dentro? No, è assolutamente un impatto piacevole, ma ripeto, grazie a Pietro e agli allenatori, a Fabio, a tutti i componenti comunque della Feral Pissarò che mi hanno agevolato in questo. Ho trovato, come ho detto prima, un lavoro di ottimo livello, quindi fatto bene, quindi squadre comunque competitive, organizzazione all'interno delle varie strutture, non solo intese come squadra, ma intese proprio come movimento. direi che è stato un impatto assolutamente positivo e ripeto, mi auguro di poter essere utile alla causa per portare la mia esperienza e le mie conoscenze a disposizione di tutti. Io penso che ci siano i presupposti per poter fare meglio di come è già stato fatto, non è semplice perché è già stato fatto tanto, però siccome, come ho detto prima, sono una persona che ama non accontentarsi mai, ma andare sempre a cercare dei campi di miglioramento per poter lavorare sempre meglio e ottenere sempre di più. Quindi la nostra sfida è questa, quella comunque di portare in giro per l'Italia, come è stato fatto fino adesso, il nome della società in maniera molto lusinghiera e dare un riscontro positivo a tutto ciò che viene fatto. Quindi qui non ci metto solo l'aspetto calcistico, ma ci metto anche l'aspetto dell'educazione, l'aspetto del rispetto delle regole e quant'altro è necessario per emergere, perché per emergere non ci vuole solo essere capaci a giocare a pallone, ma ci vogliono una serie di combinazioni e di situazioni che ti permettono comunque di apparire come sei, in maniera pulita, in maniera educata, in maniera sincera. e questo secondo me è la partenza di una crescita. Come diceva anche prima Fabio, quando hanno finito di crescere qualcuno diventa la calciatore ma qualcuno no. Quel qualcuno no dovrà essere diventato uomo. Questo è anche il compito fondamentale che abbiamo noi da portare avanti. Quindi l'approccio è stato veramente bello e ripeto, non può essere altro che positivo e propositivo per il futuro. Faccio ancora una domanda. Volevo chiedere se c'è la possibilità che la primavera possa giocare una partita, magari il derby qua a Salò, invece che a Regamonti. abbiamo già in programma un paio di partite, adesso dobbiamo formalizzare la cosa ma c'è questa intenzione di far giocare alla primavera almeno un paio di partite il giorno d'andata e poi probabilmente qualcosina anche nel giorno di ritorno, però si giocheranno al Turina. E come sempre al direttore Lodi, se ci sono ancora le collaborazioni con la città della provincia, se continuano? Sì, ci sono. Lascio magari la parola a Fabio perché sta seguendo Fabio Piantoni, sta seguendo la gestione e il progetto diciamo delle affiliazioni che è stato rivisto un attimino rinfrescato perché siamo soliti poi rivedere un attimino il progetto e quindi faccio rispondere a Fabio. Sì, il progetto Affiliazioni prosegue anche qui nell'ordine della continuità. Quest'anno saranno 11 le nostre società affiliate. Il progetto è un progetto tecnico perché vogliamo portare quello che può essere un confronto e una condivisione di una metodologia che noi utilizziamo sul campo e che troviamo in parte nelle società affiliate. Da qui nasce proprio il confronto del cosa fare, cosa è meglio evitare soprattutto per far sì che poi il servizio presso le affiliate possa crescere e migliorare. Prego. No, no, prego. Ha finito? Sì. No, volevo chiedere se potenzialmente ci sono altri ZIL nel settore giovanile? Ma allora a questo proposito colgo l'occasione visto che ci siamo Gila è un giocatore che è arrivato in Feralpi Salò nel momento in cui sono arrivato anch'io per il semplice motivo che io venivo da Brescia è un giocatore che a Brescia non era piaciuto io volutamente l'ho portato in Feralpi Salò tra le altre cose sottolineo che ai tempi avevamo ancora la doppia squadra abbiamo le squadre A e B e volutamente era stato messo nella squadra B perché era un ragazzino che aveva delle potenzialità ma che non aveva ancora fatto quel salto di maturazione che poi chiaramente è sotto gli occhi di tutti in questo momento infatti negli anni successivi poi uniformando le squadre lui ha reso quanto ha reso è cresciuto è maturato chiaramente poi entrando nel settore agonistico questa maturazione è risultata ancora molto più evidente perché cambiano anche qui i parametri non solo dal punto di vista coordinativo ma diventano anche elementi di forza di resistenza piuttosto che di velocità elementi importanti nella struttura e nella formazione di un calciatore e quindi oggi dire che un giocatore che è in attività di base diventerà un giocatore tra 5, 6, 8 anni è vendere fumo perché oggi possiamo individuare quelle che possono essere delle caratteristiche in un ragazzino ma sapere come nel tempo queste caratteristiche si sviluppano si evolvono e si trasformano secondo me è impossibile sono sincero sono trasparente mi piace esserlo quindi noi lavoriamo per far sì che queste potenzialità che intravediamo possano poi realizzarsi non sempre però chiaramente è così semplice o così verificato grazie chiedo anche una domanda prossimo tu fanno poi io passo il microfono lei ha tanti anni che allena nei primi avveri al settore giovanile come sono cambiati i giovani cacciatori in questo trascorso della sua priorità nelle società tantissimo cioè sono passati io ho avuto ho allenato dall'allevano 92 parlo di settore giovanile quindi ho avuto 92 da quelli nati nel 1992 agli ultimi che sono nati nel 2005 2006 quindi ho avuto un sacco di generazioni non così distanti ma molto distanti tra loro molte molte differenze molti cambiamenti comunque la mediaticità e i social hanno contribuito tantissimo a questi cambiamenti quindi sono aumentate le difficoltà nel far capire loro che per diventare calciatori non è sufficiente avere le scarpe come il campione piuttosto che appena c'è 18 anni la macchina potente ma c'è tutto il lavoro dietro secondo me è il cambiamento più grosso che c'è stato abbinato alla difficoltà di gestire queste situazioni perché comunque non è semplice l'aspetto vero e proprio calcistico da campo diciamo è la cosa meno complicata in questo senso perché comunque rimane molto simile a quella che è sempre stata poi c'è un'evoluzione c'è un cambiamento chiaramente il calcio dei grandi richiede determinate caratteristiche quindi noi addetti al settore giovanile dobbiamo fare in modo e maniera che arrivino preparati come richiede il calcio all'appuntamento con i grandi quindi c'è l'evoluzione tecnico-tattica c'è l'evoluzione fisica però la cosa più complicata e la gestione nel far capire come si deve fare per arrivare a provare a diventare un qualcuno nel mondo del calcio questo è la complicanza faccio un'ultima domanda a Pietro Lodi se può spiegare meglio la collaborazione con la free team il free team per il calcio femminile cioè loro porteranno in giro il nome di Feralpi Salò oppure sono due intituzioni parlate non porteranno rimarranno porteranno avanti ovviamente la denominazione sociale che è free team calcio femminile Brescia c'è questa affiliazione ripeto che ha i fini delle licenze nazionali ma va un po' oltre rispetto alle affiliazioni che abbiamo fatto fino ad oggi ripeto per assolvere quelli che sono gli oneri delle licenze nazionali quindi nasce questa collaborazione è un progetto in divenire quindi diciamo consideriamola una start up ma l'idea è quella di portare avanti un progetto di condivisione di formazione visto considerato che fanno calcio hanno degli allenatori quindi sono equiparabili a un settore giovanile maschile chiedono il nostro supporto da un punto di vista della formazione ripeto e quindi ci metteremo a disposizione da questo punto di vista per cercare di essere un attimino un po' più collaborativi rispetto a una affiliazione come è stata magari in questi anni semplicemente sulla carta Felizio Tufano hai citato tra i tuoi giocatori Mauro Icardi ma soprattutto Raspadori un paragone a Raspadori Gila alla loro età beh ci potrebbe anche stare Raspadori ha una maturità impressionante cioè Raspadori in under 17 era un ragazzo che ragionava come potrebbe ragionare un trentenne cioè un ragazzo che ha sempre comunque costruito sul lavoro la sua voglia di diventare e la sua determinazione di diventare calciatore io Gila l'ho visto poco lo conosco poco per quel poco che ho visto mi sembra un ragazzo veramente con i piedi per terra nonostante quello che sta vivendo e non è semplice perché parliamo di un 2007 quindi ha bruciato veramente le tappe in questo senso quindi è più facile volare ma volare molto in alto che non tenere i piedi per terra io in questo breve periodo ho notato questa cosa qui poi non ho una conoscenza così approfondita di Gila come l'ho avuta di Raspadori per due stagioni però l'impressione è stata veramente ottima di un ragazzo veramente che con gli strumenti giusti per poter arrivare ma deve mantenere questo atteggiamento perché questo atteggiamento ti permette ti consente di migliorarti quotidianamente perché arrivare a un conto rimanerci è un altro perché oggi per un ragazzo la cosa più complicata non è quella di arrivare è quella di rimanere perché va tutto talmente tanto veloce che questi ragazzi vengono bruciati in un attimo se non sono gestiti nella maniera giusta se non hanno i consigli giusti e se loro stessi non hanno un approccio quotidiano con l'ambiente con il lavoro nella ricerca del miglioramento se pensano di essere già arrivati è la strada migliore per tornare indietro ma quando torni indietro cadi dall'alto il tonfo è pesante e ti fai molto male quindi Gile è stata una piacevole scoperta una piacevole sorpresa bravi bravi loro a gestirlo nel migliore dei modi brava la Feralpi Salò a crederci e a continuare a crederci ma questo fa parte di quel discorso che ho fatto prima quando dico ho trovato un ambiente preparato non ho trovato un ambiente per nulla approssimativo sproveduto ma molto molto preparato con un lavoro fatto veramente bene quindi lui può essere in questo momento l'esempio l'emblema il fiore all'occhiello di questo lavoro Prima dei saluti finali con Fabio Piantoni magari scendiamo nel dettaglio elencando le affiliate e anche in cosa consiste poi l'affiliazione in sé Certo l'affiliazione guarda le leggo per non dimenticare nessuna e non fare torto a nessuna e confermate quest'anno sono ancora a Pavoniana come nostro centro di formazione abbiamo Passilano Camignone Gruppo Samber 84 Virtus Feral Pilonato storica collaborazione con Feral Pissalò Real Montenetto Villa Clarense e Borgo San Giacomo e fanno il nuovo ingresso come affiliazioni Virtus Aurora Travagliato Polisportiva Erbusco Bedizzolese e Oratorio Padregnone il progetto con le affiliate è un progetto che nasce sulla base come dicevo prima di migliorare un servizio per i ragazzi quindi sulla base di questo il progetto consiste nell'organizzare e pianificare delle uscite presso queste società affiliate dove saranno i nostri tecnici a interagire con i tecnici delle società le categorie privilegiate saranno quelle dell'attività di base perché come si diceva prima è la base che permette poi di costruire qualcosa di importante pertanto i nostri tecnici avranno il compito di relazionarsi interfacciarsi e interagire con le società proprio a questo proposito negli ultimi anni abbiamo messo un referente tecnico per ogni società affiliata questo vuol dire che in qualsiasi momento l'affiliata richieda una consulenza piuttosto che un consiglio un'idea sul come fare una determinata situazione piuttosto che l'approccio metodologico nella gestione di un gruppo neoformato rispetto a un gruppo magari che ha un percorso di un certo tipo ecco noi siamo a disposizione per un supporto e una condivisione anche qui di idee piuttosto che di metodo che applichiamo all'interno del nostro settore giovanile sottolineo perché prima non l'abbiamo detto c'è una figura professionale che segue non solo il nostro settore giovanile ma anche le società affiliate che è la figura della psicologa psicologa dello sport che è la dottoressa Francesca Fabri con la quale c'è la possibilità questo è un servizio offerto anche alle famiglie delle società affiliate di avere una consulenza professionale proprio in questo ambito dove quindi si cerca di mettere nelle migliori condizioni tutti gli operatori all'interno della società sportiva e non solo perché poi anche le famiglie così come a volte ci si interfaccia anche con la scuola proprio per avere delle informazioni di carattere prettamente di come si comporta un bambino di che bisogni ha di che necessità quindi attenzioni affettive piuttosto che di natura emotiva quindi tutti questi aspetti sono analizzati approfonditi e penso che se da quando io sono arrivato ed erano meno oggi siamo a 11 società affiliate vuol dire che è un messaggio che sta passando e il territorio secondo me ha bisogno di questa cosa e siamo lusingati e anche orgogliosi di riuscire a portare avanti questo progetto che ripeto negli anni si sta ampliando e sta prendendo consapevolezza e valore grazie mille Fabio Piantoni responsabile dell'attività di base ringraziamo anche di nuovo il direttore generale del settore giovanile Pietro Lodi e Felice Tufano coordinatore area tecnica siamo in saluti direttore prego la chiosa sì ovviamente ripeto come per noi è importante quest'anno è un banco di prova per tutti siamo convinti di far bene perché ripeto l'organizzazione che alla base di un settore giovanile c'è la programmazione anche e quindi ritengo che possa essere effettivamente un anno altamente formativo non solo per i nostri ragazzi ripeto ma anche soprattutto per noi riuscire a confrontarsi con realtà importanti di prima fascia è sicuramente molto stimolante per tutti noi quindi spero e mi auguro insomma ecco che possa essere un anno positivo ecco per tutti i nostri ragazzi grazie mille buon lavoro e buon lavoro a tutti sempre forza leone del Garda grazie grazie a tutti